Al via la nuova campagna di sensibilizzazione del Codacons Cilento, incentrata alla tutela e difesa dei diritti dei cittadini contro episodi di mala sanità. Pertanto si fa un appello ai mass media presenti sul territorio per l'apertura di una campagna informativa che punti alla tutela e difesa dei diritti dei cittadini, sostiene Bartolomeo Lanzara, presidente Codacons Cilento. In tutto il territorio del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si registrano sempre di più spesso episodi di mala sanità che riguardano la carenza delle prestazioni mediche, le condizioni igieniche, inadeguatezze strutturali, errori medici eccetera. La nostra associazione è nota perché in più occasioni ha denunciato i casi di mala sanità italiana. Da oggi anche la zona sud della provincia di Salerno avrà uno sportello dedicato alla difesa dei diritti dei cittadini dai episodi di mala sanità. La frequenza dell'aumento di queste segnalazioni sul territorio desta preoccupazioni e continua Lanzara. Pertanto per aiutare i cittadini in modo migliore sono le campagne informative che rappresentano una vera e propria arma vincente contro i casi di mala sanità. Da oggi il Codacons mette a disposizione l'indirizzo mail codaconscilentocomunivelini.com e il recapito telefonico 3457728260, dove i cittadini potranno segnalare e denunciare eventuali episodi di mala sanità che provvederemo a segnalare alle autorità competenti. In questo modo offriremo anche una fattiva collaborazione agli organi preposti a tali controlli.